quando si riprenderà a girare e nessuno è in grado di dirlo ma certamente prima o poi si riprenderà a girare perché c'è una grande attenzione c'è una grande fama c'è una grande voglia di vedere nuovi film e nuovi prodotti il punto è che tipo di film si vedranno film o serie ovviamente che tipo di prodotto generalmente questi grandi sconvolgimenti epocali le guerre per esempio sia quella del vietnam in america ma anche quella mondiale ha prodotto subito dopo una reazione duplice da un lato i film che hanno trattato direttamente o indirettamente quel quel trauma i grandi film sul vietnam di metà degli anni 70 da porle pstau al cacciatore oppure se pensiamo alla prima alla prima la seconda guerra mondiale in entrambi i casi sono decine i film oppure dei film che in qualche modo hanno reagito in maniera opposta e scapista come si dice qui per esempio alla fine degli anni 40 in america ci sono state moltissime commedie c'è stato il boom di gianni e pinotto abbott e costello ma anche delle commedie un po più nobili nobili come la costola di adamo te lo ricorderai sicuramente con spencer tracy e katrine eburne ma anche dei film di grandissima qualità i film di lubic i film di press on star just eccetera insomma ci sono c'è una reazione duplice chi affronta l'argomento delle volte metaforicamente chi invece ne scappa questa crisi sta dando un colpo mostruoso forse definitivo alle sale non sono in grado di fare il profeta certamente cambierà per lunghissimo tempo anche dopo la fine della crisi la fruizione perché anche se mettiamo fra due mesi tre mesi il contagio è finito la pandemia è tenuta sotto controllo certamente ci vorranno altri molti altri mesi prima che si ricomincia ad andare al cinema e questo vale anche per i festival vale anche per tutte le manifestazioni di massa se sappiamo che il cinema è per definizione il linguaggio delle immagini così dice cinema movimento immagini in movimento la definizione del cinema non è altro che la fruizione insieme a degli sconosciuti di un film che viene proiettato quindi luminoso su uno schermo che è più grande dello spettatore quindi se vai a levare almeno uno anche soltanto uno di questi elementi che cosa fai levi l'essenza stessa del cinema se per esempio lo schermo diventa più piccolo della spettatore se non ci sono gli sconosciuti insieme a te al buio eccetera eccetera cambi totalmente io credo per intenderci che continueremo a vedere dei film non sappiamo come li vedremo certamente la sala ha avuto un colpo enorme non so se un k o un k d per chi ama il box io immagino che subito dopo questa crisi ci saranno tante buone intenzioni sia per quanto riguarda il nostro settore che il cinema sia in generale sul modo di affrontare la vita ci si sentirà tutti migliori tutti toccati da questa esperienza e probabilmente lo saremo per un certo periodo ma per dopo un po di tempo si ritornerà a volere a pretendere le stesse cose e ci si dimenticherà dell'esperienza stessa certo in sull'immediato ogni film ogni opera verrà letta alla luce di quello che è successo ma poi soltanto i più saggi o i più santi ma soltanto pochi avranno questa maturità necessaria per rivivere attraverso un passaggio di dolore o aver vissuto attraverso un passaggio di dolore un'esperienza tale da poter capire in maniera matura i film stessi grazie a tutti